Buonasera a tutti, mi hanno catapultato sul palco, non ero venuta per parlare, non mi sono preparata a nessun discorso e poi comunque non saprei farlo. Volevo solo dire che sono qui e perché stamattina mi sono svegliata pensando che non posso aspettare ottobre perché le cose stanno accadendo adesso e adesso bisogna manifestare il dissenso e voglio andare forse non cambierà nulla, forse sì, io lo spero, ma scusate se dico una cosa anche un po' egoistica, anche se non dovesse cambiare nulla io stasera voglio andare a dormire tranquilla di aver fatto il mio dovere.